musica wey bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi porco giù da porco è successo una cosa incredibile nel momento in cui eravamo in partita alle ore 11 di questa mattina ragazzi siamo a passatempi pomposi eravamo in squad in live ragazzi non voglio dirvi niente ma guardate un po' cosa è successo sentite il rumore arca are you seriously guardate guardate che roba guardate che roba guardate che roba è partito un bug ed è partito l'evento di capodanno ragazzi se questa sera non potevate vederlo adesso lo avete visto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video miliardi di like iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ciao 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 ciao